Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. Ben trovati in questa edizione un po' più particolare del solito di mattino 6 perché siamo all'indomani della giornata delle elezioni. In particolare nella nostra regione si è votato in circa 50 comuni con potenzialmente circa 270 mila elettori chiamati alle urne. L'Abruzzo ha fatto registrare un dato circa l'affluenza del 66,5%, un dato che è superiore rispetto al dato nazionale che si è assestato intorno al 60%. 6 i comuni sopra i 15 mila abitanti dunque con il potenziale secondo turno. Ebbene in due di questi comuni la situazione è praticamente risolta. Ci sono due conferme, in particolare a Spoltore quella di Luciano Dilorito e a San Salvo quella di Tiziana Magnacca. Negli altri quattro comuni verosimilmente si andrà al ballottaggio, in particolare il voto più atteso è quello del capoluogo d'Abruzzo all'Aquila. Vi ho detto che è un'edizione atipica, vedremo chiaramente i giornali. Ma partiamo dai siti istituzionali andando a vedere quella che è la situazione ufficiale al momento. Partiamo proprio dal comune dell'Aquila dove al momento sono stati scrutinati, ufficializzati i dati di 40 sezioni su 81. Dunque siamo a metà del percorso. Vedete in testa al momento c'è Americo Di Benedetto del centrosinistra, sostenuto dal PD, Abruzzo Civico e da una serie di altre liste civiche con il 46,73% di preferenze. Si profila il ballottaggio con Pierluigi Biondi del centrodestra, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Biondi che ha raccolto al momento via ufficiale il 35,01%. Di conseguenza siamo con un distacco al momento di 10 punti percentuale. E poi andando a scendere Carla Cimoroni 7,36%, Fabrizio Righetti dei 5 Stelle 4,71%, poi l'ex vice sindaco Nicola Trifoggi 2,76%, l'ex manager della AS, l'Aquilana Giancarlo Silveri, l'1,98% e poi Claudia Pagliariccio di Casa Pound con l'1,42%. Ballottaggio anche ad Avezzano, centro nevralgico della Marsica. In questo caso si profila un ballottaggio tra, lo vediamo, Giovanni Di Pangrazio, che è il sindaco uscente, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra. Per lui 41,96% su dati che al momento sono relativi a 18 sezioni su 48. Dunque siamo a meno della metà del viaggio. Forse probabilmente possiamo andare sull'iPad, informazioni di servizio per il nostro Maurizio Daguì in regia. Ecco qui per quanto riguarda Avezzano, come detto Giovanni Di Pangrazio 41,96%, ballottaggio con Gabriele De Angelis, sostenuto da una coalizione di liste di riferimento del centro-destra 38,42%. Poi a scendere troviamo Francesco Eligi del Movimento 5 Stelle, 7,52%, in una tornata elettorale che poi lo vedremo anche sui riflessi nazionali, ha fatto registrare proprio una caduta del Movimento Pentastellato. Poi Leonardo Cascere 6,34%, Stefano D'Andrea 3,89%, a Nazareno Di Matteo 1,84%. Vediamo ora la situazione a Ortona, riferimento ai dati al momento ufficiali sul sito del Ministero dell'Interno, in testa con però solo 7 sezioni scrutinate su 27, dunque un dato estremamente parziale, operazioni molto a rilento. a Ortona, dove la situazione è piuttosto frassagliata con 7 candidati a sindaco. In testa Leo Castiglione, 642 voti, 23,29%, poi Rinaldo Veri, 21,37% e Giorgio Marcheggiano, 20,89%. Però bisogna precisare che dati un po' più aggiornati, ufficiosi, danno al momento un ballottaggio tra Giorgio Marcheggiano e Leo Castiglione. Poi leggiamo ancora i dati ufficiali, Peppino Polidori 15,85%, Angelo Di Nardo 11,75%, questi ultimi due sono espressione del centro-destra, poi Gianluca Coletti 5,84%, Tiziano Torzi che non arriva al momento all'1%. A San Salvo, dato in questo caso parziale, ufficiale, ma è un dato in realtà chiaro da un punto di vista ufficioso, con la sindaca uscente Tiziana Magnacca che va verso una riconferma piuttosto netta, in questo caso 5 sezioni scrutinate su 20, per Tiziana Magnacca 64,67%, sindaco espressione del centro-destra, poi Gennaro Luciano 14,26%, pochissimi, in questo caso c'è un voto solo in più rispetto a Angelo Pietro Angelucci 14,22% e poi Osvaldo Menna 6,83%. A Martinsicuro si va verso il ballottaggio con però Massimo Vagnoni in testa, Vagnoni che non va neanche lontano dal 50%, dunque anche dalla chiusura al primo turno, Massimo Vagnoni in questo caso su 5 sezioni su 13, siamo al 48,98%, in vantaggio netto sul sindaco uscente Paolo Camaglioni 25,78%, poi Elisa Foglia 14,35%, Marco Massetti 10,87%, duello all'ultimo voto ma risolto, questo è un dato definitivo, a Tortoreto in questo caso parliamo di un comune al di sotto dei 15 mila abitanti, dunque la risoluzione c'era già al primo turno, e vince Domenico Piccioni, questo ripeto è un dato definitivo, vince con il 28,39%, pari a 1.594 preferenze, battuto Domenico Di Matteo che si ferma al 21,61%, poi vedete anche l'assegnazione dei seggi, 11 alla coalizione, o meglio alla lista che ha sostenuto Domenico Piccioni, due seggi alla lista che ha sostenuto Domenico Di Matteo, poi Piero Di Nicola 16,85%, un seggio in consiglio comunale, Riccardo Straccialini dei 5 Stelle 13,34%, un seggio in consiglio comunale, Nico Carusi 11,77%, un seggio, e poi Franco Rampa 8,01%, nessun seggio in consiglio comunale. Siamo a Spoltore, dove la situazione è chiara, in questo caso il dato però è riferito, il dato ufficiale a 4 seggi su 20, netto vantaggio per Luciano Di Lorito, con il 59,46%, va verso la riconferma di Lorito, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra, poi Marina Febo, con il 29,32%, è sostenuta da una coalizione di liste di riferimento del centro-destra, e poi c'è Filomena Passarelli dei 5 Stelle, 11,21%, possiamo anche dare uno sguardo a quella che è la situazione a San Salvo, attraverso il sito Zona Locale, che cura con riferimento l'area istonica, e come possiamo vedere, anche in questo caso pochi dubbi, Tiziana Magnacca, 65,1%, il 15,2%, invece per Angelo Angelucci, che prende al momento il secondo posto, su Gennaro Luciano del PD, 14,7%, poi Osvaldo Menna, poco sopra il 5%, e abbiamo parlato di una situazione in bilico a Martinsicuro, però, insomma, si dovrebbe andare al ballottaggio con Massimo Magnoni, che al momento ha, lo leggiamo attraverso il sito di City Rumors, su 6 sezioni scrutinate, su 13, Massimo Magnoni al 47,6%, contro il 29,1% di Paolo Camaglioni, poi Elisa Foglia, 12,1%, Marco Massetti, 11,1%. Possiamo rientrare, possiamo dare uno sguardo tra poco ai siti di Corriere e Repubblica, però direi ora di dare uno sguardo intanto a quello che hanno detto le prime pagine dei giornali, sia quelli locali, sia quelli nazionali, per avere un quadro ulteriormente, diciamo così, chiaro della situazione. Allora, siamo con la prima pagina del centro, chiaramente è il comune capoluogo ad attrarre l'attenzione, ecco qui il titolo d'apertura, l'Aquila avanti di Benedetto ad Avezzano, di Pangrazio in vantaggio su De Angelis, Ballottaggio a Ortona e Martinsicuro, San Salvo e Spoltore, gli uscenti Magnacca e Dilorito si confermano al primo turno. E poi qui vediamo al centro questa grafica con dei riferimenti numerici che sono comunque in evoluzione, perché chiaramente il giornale è andato in stampa poche ore fa e da lì insomma le percentuali sono lievemente mutate. E comunque abbiamo visto già i dati ufficiali sul sito del Ministero dell'Interno. Diamo lo sguardo anche agli altri richiami. Nelle cronache a Teramo la banda del Bancomat resta a mani vuote. A Chieti usura ex Banca Marche condannata. In basso poi per la cronaca tragedia a Torre dei Passeri, nel Pescarese muore schiacciato dal trattore. La vittima di 62 anni stava arando un terreno scosceso. Vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. L'Aquila di Benedetto allunga su Biondi. Exit pollerà il candidato del centro-sinistra tra il 46 e il 50%. Quello del centro-destra tra il 30 e il 34%. Alta affluenza alle urne in tutta la regione. Altri 49 comuni al voto. Attesa anche per il risultato di Avezzano. E poi sotto la testata Teramo trova la strada sbarrata e chiama i carabinieri. Fallita la rapina. Torre dei Passeri, trattore Siribalta. Schiacciato l'agricoltore Argeo Ciarfella. A Teramo, blackout durante gli interventi. Prima rilanciano l'allarme. La corrente elettrica è mancata. Più riprese anche nelle sale operatori. Il direttore generale della regione della ASL Fagnano dice già riparati i gruppi elettrogeni. E poi di spalla leggiamo nelle città torna a battere il cuore della politica. Un commento insomma a quelli che sono stati i dati in particolare dell'affluenza. Ripeto, non altissima ma in abruzzo più alta rispetto a quella che è stata la media nazionale. Poi ancora scontro tra auto. Quattro feriti, due ragazze gravi lanciando un incidente sulla Fondo Valle Sangro. le giovani stavano andando a una festa a Vasto. E poi Giulianova trova in camera il fratello morto. Diamo ora uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Poi come promesso faremo anche una panoramica sui siti in particolare di Corriere e Repubblica. E noi proprio dalla prima pagina di Repubblica partiamo con uno dei dati politici di riferimento di questa tornata elettorale. Comuni, la frana di Grillo. Il Movimento 5 Stelle resta fuori dai ballottaggi in tutte le grandi città. Palermo è un plebiscito per Orlando. A Genova centrodestra avanti sul PD. A Parma l'ex 5 Stelle Pizzarotti al 37%. Il rivare Pentastellato al 3%. E poi ancora di spalla leggiamo Macron trionfa picco Le Pen e i socialisti. Questo per quanto riguarda le elezioni in Francia. Poi ancora la faida interna tra i grillini resa dei conti su Di Maio. Siamo già alle prime considerazioni post voto. In basso per lo sport Nadal la leggenda della terra rossa. Il tempo il vaffa dei elezioni clamoroso flop del Movimento 5 Stelle fuori dai ballottaggi nelle grandi città più che affidarsi a tante piccole raggi. Gli italiani preferiscono dar fiducia ai vecchi partiti. Poi ancora la situazione nel Lazio in particolare a Flosinone vince stravince Ottaviani e in basso si legge il centrodestra risorge ovunque il messaggero sindaci la sconfitta del Movimento 5 Stelle proiezioni candidati grillini restano fuori dai ballottaggi nelle città più importanti l'affluenza giù tornano i duelli centro-sinistra centrodestra Genova vantaggio Forte Italia Lega Palermo Orlando rieletto e poi ancora in Francia Macron a Valanga verso la maggioranza assoluta votanti ai minimi 49,8% tracollo socialista male le penne poi in basso May vacilla l'intesa sempre più isolata Regno Unito i nord-irlandesi si sfilano Corbyn io premier poi maturità guida online sui prof esterni social scatenati recensioni sui commissari e Toto tema avanti ancora con la stampa il voto delle città punisce i grillini fuori dai ballottaggi bipolarismo centrodestra centrosinistra testa a testa Genova e Verona Parma la rivincita di Pizzarotti a Palermo Orlando verso la rielezione Taranto in equilibrio i comuni bocciano i candidati dei 5 Stelle e li escludono dal secondo turno Forza Italia Lega avanti dove sono uniti affluenza in calo del 60 affluenza in calo siamo al 60% poi capolavoro di Macron conquista la Francia avanti ancora con il giornale il grillo perdente flop alle amministrative Batosta 5 Stelle fuori da tutti i ballottaggi importanti il centrodestra vola a Genova e corre in Veneto avanti ancora con la prima pagina del fatto quotidiano sfida PD destra 5 Stelle fuori boom di Orlando e dei senza partito Pizzarotti e Fiorita elezioni amministrative primo round la rivincita dei vecchi partiti in Francia Macron comanda da solo gollisti su Le Pen Moscia siamo a libero elezione amministrativa il grillo perdente il Movimento 5 Stelle paga le boiate di raggi appendino e finisce fuori da tutti i ballottaggi che contano nelle città torna il bipolarismo sinistra-destra ma alle politiche non sarà così il centrodestra vola a Genova Silvio se la gode siamo noi l'argine ai 5 Stelle il segretario del PD temeva la batosta se la cava e non sta più nella pelle e poi il vedovo di Obama che insulta i trampisti in tv così rampini il mio ex mito mi ha aggredita di Paola Tommasi e poi il secolo XIX chiaramente focus sulla situazione al comune di Genova Movimento 5 Stelle KO testa a testa Bucci Crivello Liguria Maglia Nera per l'affluenza 50,6% contro il 60% nazionale la spezia avanti il candidato di Toti e poi gli scrutini a Genova ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra boom della Lega e poi il crollo 5 Stelle fuori dal secondo turno anche nelle altre grandi città al voto avanti ancora con il mattino il flop dei 5 Stelle Palermo conferma Orlando a Genova sarà ballottaggio tra i poli a Sant'Antimo brogli del clan 50 euro in cambio del voto tre arresti poi il gazzettino Movimento 5 Stelle giù Padova e Verona sfide aperte Bitonci al ballottaggio con Giordani nella città scaligera Sboarina in vantaggio testa a testa PD e Tossiani il voto delle città battuta dal resto dei grillini a Mira spallata del centro sinistra ai 5 Stelle e poi il Tirreno multe boom 153 in poche ore vigili urbani contro la sosta selvaggia sul lungomare dunque non c'è non ci sono le elezioni a dare l'apertura alla prima pagina del Tirreno e qui invece è così sulla gazzetta del Mezzogiorno comunali i poli da 3 a 2 Lecce spareggio Giliberti Salvemini volata a Taranto in testa Baldassarri ora diamo lo sguardo al sito del Corriere il Corriere della Sera la prima pagina comunali flop 5 stelle fuori dai grandi ballottaggi il centro-destra in ripresa nelle città ora sfida il PD Orlando sindaco Verona Ledi Tosi sfida il centro-destra poi qui possiamo dare anche uno sguardo ad alcuni dei testa a testa nei comuni principali in cui si è votato vediamo a Genova c'è il vantaggio di più di 5 punti percentuali di Bucci del centro-destra su Crivello 38,7 contro 33,4 a Parma l'ex pentastellato Pizzarotti 34,7% contro il 32,8 di scarpa del centro-sinistra a Orlando siamo al 45,7% netto vantaggio su Ferrandelli del centro-destra ma in questo caso a Palermo c'è una soglia più bassa per evitare il ballottaggio basta superare il 40% e come vediamo Orlando è chiaramente al di sopra di questa soglia Sicilia regione statuto speciale vediamo ora Verona con Sboarina del centro-destra che è avanti 29,3% contro la lista civica l'esponente della lista civica Bisinella Leditosi 23,6% a Monza centro-destra avanti con Allevi 39,9% ma di una manciata di voti su Scanagatta del centro-sinistra 39,8% più netto il vantaggio di Bitonci del centro-destra su Giordani del centro-sinistra a Padova 40,2% contro 29,3% e poi ancora all'Aquila ecco la situazione del capoluogo d'Abruzzo 46,6% abbiamo visto poco fa anche i dati ufficiali di Benedetto del centro-sinistra netto vantaggio su Biondi 35% Biondi del centro-destra a Oristano Luzzo centro-destra avanti su Obinu del centro-sinistra 29,4% contro 22% a Frosinone invece si va verso la vittoria al primo turno di Ottaviani del centro-destra 54,6% a Lecce Giliberti del centro-destra in netto vantaggio su Salvemini del centro-sinistra 45,8% contro 28,6% possiamo dunque chiudere qui con la parte legata ai quotidiani nazionali possiamo tornare ai quotidiani locali possiamo andare in particolare sul centro per dare uno sguardo a quella che è la situazione che si è verificata in Abruzzo ripristiniamo le pagine del centro andiamo a pagina 2 e 3 e dunque ripartiamo dal dato dell'affluenza che abbiamo dato in apertura di questa edizione di Mattino 6 la regione si ferma al 66,5% persi 5 punti percentuali rispetto all'ultima occasione a Lecce di Marsil dato migliore 85,43% maglia nera a roio del sangro dove non si è arrivati neanche al 20% come dato dell'affluenza poi c'è questa tabella che va a mettere insieme tutti i dati dell'affluenza nelle 4 province con i comuni dove si è votato lo ripetiamo l'affluenza è stata in calo ma rispetto al dato nazionale l'Abruzzo si è comportato bene perché siamo 6 punti percentuali più su rispetto al dato nazionale che è poco oltre il 60% confermata la tenuta del centro-sinistra una ripresa dell'area di centro-destra e la mancanza di presa del Movimento 5 Stelle queste le prime considerazioni e poi ecco l'Aquila al voto di Benedetto Biondi e ballottaggio le elezioni nel capoluogo premiano centro-sinistra e centro-destra flop del Movimento 5 Stelle male anche gli altri schienamenti e poi ancora in basso votano anche le suore di clausura di San Basilio e gli scudatori ritrovano le sedioline dei bimbi Avezzano al voto e sfida tra Di Pangrazio e De Angelis le prime proiezioni nella notte il sindaco uscente in vantaggio bene il candidato del Movimento 5 Stelle Affluenza in calo il primo cittadino in carica sono soddisfatto di questo risultato se il trend verrà confermato è chiaro che la città sceglierà a me anche al ballottaggio e poi questa curiosità in basso nonna Aurelia alle urne a 102 anni bloccati per le foto alle schede elettorali in tre rischiano la denuncia e siamo a Pratola di Nino verso la vittoria rocca di mezzo e testa a testa tra Nusca e di Ciccio Berardinangelo confermato sindaco ecco diamo conferma che a a Pratola Perigna c'è stata la vittoria effettivamente di Antonella di Nino 38,96% per l'esponente della lista civica Pratola Bellissima ha avuto la meglio in particolare su Gaetano Di Ciocio 28,06% e poi avevamo letto delle testa a testa a Rocca di mezzo in effetti il verdetto è arrivato addirittura intorno alle 6.30 e di Ciccio ha avuto la meglio con 526 preferenze 50,47% contro le 516 di Emilio Nusca 49,52% dunque vittoria per 10 voti a Rocca di mezzo per per di Ciccio e possiamo andare avanti sempre nell'Aquilano Luco Palma vola verso la vittoria Lorenzo Lorenzini fratello del ministro Beatrice nuovo sindaco di Cappadocia a Lecce De Marsi in vantaggio De Angelis anche in questo caso possiamo dare uno sguardo al verdetto definitivo al Luco De Marsi c'è la vittoria di in realtà di Marivera De Rosa che l'ha spuntata per una decina di voti per 11 voti proprio su Domenico Palma che nella notte evidentemente era in vantaggio ma al foto finisce ha subito il sorpassa dunque Marivera De Rosa nuovo sindaco di Luco De Marsi vediamo anche l'altro testa a testa che veniva segnalato in particolare nel comune di Lecce De Marsi dove era in vantaggio De Angelis se Gianluca De Angelis è il nuovo sindaco del comune di Lecce De Marsi ha avuto la meglio su Omar Favoriti proseguiamo a Montereale c'è invece la conferma di Giorgi a Pescasseroli testa a testa nella notte tra Gambescia e Lacesa e anche in questo caso il verdetto è arrivato poco dopo le 4 Luigi Lacesa e il sindaco del comune di Pescasseroli con il 52,98% contro il 47,01% di Gambescia e siamo ora nel Teramano con Martinsicuro al voto Magnoni stacca Camaglioni e sfiora il 50% si profila il ballottaggio con l'ex sindaco se non riuscirà a vincere a primo turno De Bacl del PD tengono i 5 stelle come abbiamo detto Magnoni al momento è poco sopra il 47% dunque si profila il ballottaggio con il sindaco uscente Paolo Camaglioni Piccioni e Di Matteo all'ultimo voto ma in realtà abbiamo visto in precedenza è Domenico Piccioni il nuovo sindaco di Tortoreto nei comuni un po' più piccoli del Terramano a Valle Castellana D'Angelo vince la sfida tra ex vice sindaci mentre a Crogna Reto è la terza volta di D'Alonso staccato Peluzzi e poi Ortona al voto flop dei partiti sfida Marchegiano Castiglione al ballottaggio due candidati degli schieramenti civici che precedono Veri e Polidori staccati Di Nardo Coletti e Torzi Poi ancora a San Vito Bozzelli in vantaggio nella notte Bucciarelli staccato di pochi voti e in questo caso anche proviamo a vedere il verdetto al comune di San Vito Chietino verdetto che è arrivato poco dopo le 4.30 e c'è stata la vittoria proprio di Emiliano Bozzelli con il 34,35% ha avuto la meglio di Rosario Bucciarelli che si è fermato al 33,18% poi Enzo Altobelli 32,46% poi a Tollo netta vittoria di Angelo Radica il sindaco uscente centra il secondo mandato sconfitto Serraiocco e a Ripatiatina Ignazio Rucci si concede il bis si è ripresentato con un bilancio di 6 milioni di opere pubbliche San Salvo al voto abbiamo visto Magnacca vola e fa il bis al primo turno la sindaca uscente di centro-destra sbaraglia gli avversari con oltre il 60% dei consensi dietro Luciano Angelucci e Menna e poi in basso riconfermati Ramondelli e Marchione Stampone Primeggia a Fraine Sabatino a Castelguidone a Rosello Monaco succede a Moccia e poi Atessa un altro comune importante del Chietino chiamato al voto con un volto noto come Giulio Borrelli che stacca Pellegrini di 10 punti il candidato sindaco di Uniti per Atessa avanti nella notte indietro e a pari punti gli altri due sfidanti Fioriti e Falcone allora andiamo a vedere il verdetto al comune di Atessa verdetto che è arrivato alle 6 e 10 Giulio Borrelli è il nuovo sindaco di Atessa 43,48% netta affermazione di quasi 10 punti percentuali su Vincenzo Pellegrini 34,84% e poi Emilio Falcone 12,52% Carmine Fioriti 9,15% continuiamo e andiamo a vedere gli ultimi verdetti ora nel Pescarese prima di chiudere la prima parte di mattino 6 Di Lorito sindaco per altri 5 anni siamo a Spoltone il primo cittadino arriva al 60% dei consensi Febo non supera il 28% mentre Passarelli si ferma all'11% in basso vediamo a Scafa via libera al Giancola Bis superato chiacchia del PD e poi le dichiarazioni del confermato sindaco tanti giovani nella mia lista saranno la nuova classe dirigente ecco qui la soddisfazione del sindaco Giancola dunque rieletto a Scafa Adalanno invece è Pezzi il nuovo primo cittadino a Villa Cegliera viene dato Vespa in vantaggio contro le tre liste avversarie a Brittoli Di Bernardo Supra Velluto e Di Persio dunque diamo uno sguardo in questo caso al comune di Villa Cegliera che qui veniva dato in bilico vediamo come si è risolta la situazione con la vittoria di Domenico Vespa 41,61% netta affermazione su Chiavaroli 29,67% poi Di Lorenzo 21,96% Iannelli 6,55% Nardi 0,19% Allora siamo arrivati alla fine di questa panoramica però la nostra rassegna stampa prosegue con gli altri titoli di cronaca con lo sport e anche con alcuni servizi quindi non andate via ci vediamo più tardi per la seconda parte di Mattino 6 ora previsioni del tempo e pubblicità Di nuovo buongiorno la seconda parte di Mattino 6 lasciamo i risultati delle elezioni abbiamo fatto una panoramica poi magari se ci saranno ulteriori aggiornamenti prima di chiudere ci torneremo dedichiamoci agli altri titoli torniamo sul centro la festa a Pescara Noemi la bimba simbolo e gli auguri degli abruzzesi al parco dei Riseis la piccola di Guardiagrelle malata di Smauno riceve i saluti di tanti amici e del presidente D'Alfonso il papà Andrea dice grazie a tutti e poi a Pescara la cittadella dello sport il nuovo stadio si sposta in zona Pinetta cambia la destinazione dell'impianto sorgerà in via a Pantini e in via Peppe sono previsti una piscina e il campus universitario avanti ancora sempre a Pescara estate la partenza è giusta presenze aumentate del 20% le associazioni di categoria dei balnatori soddisfatte per l'avvio della stagione i prezzi in spiaggia sono rimasti stabili ma serve una azione di promozione e poi a proposito di eventi estivi ieri un mega evento a Pescara il beach party 5.000 giovani sulla spiaggia discoteca il Samsara for Abruzzo scatena la voglia di musica e divertimento davanti alla nave di Cascella perfetto il servizio d'ordine qui vediamo alcuni degli scatti del party tenuto ieri pomeriggio avanti ancora per la cronaca muore a 62 anni schiacciato dal trattore tragedia Torre dei Passeri argentino Cerfella noto artigiano stava arando un terreno quando il mezzo si è ribaltato siamo alla pagina dell'Aquila debiti fuori bilancio il comune dovrà pagare 2 milioni lodo arbitrale ordine all'ente di saldare le ditte che gestiscono il servizio riscossione dei tributi oltre 10 anni fa Avezzano ospedale c'è carenza di personale sospesa lago puntura il tribunale del malato denuncia decine di pazienti senza terapie l'asle cerca sei tra medici anestesisti infermieri e operatori socio-sanitari e poi per la cronaca sempre ad Avezzano sperona l'auto della ex nei guai un uomo in corso la causa per l'affidamento dei figli a Sulmona il rilancio del turismo gli albergatori al comune orari dei negozi flessibili si sollecitano eventi promozionali licenze taxi e un centro storico vetrina altra richiesta riguarda la qualità delle fiere che dovrebbe essere più alta e poi a Roccaraso ordine obelico nel campo di calcio la bomba trovata durante il completamento dell'impianto sportivo e siamo alle pagine di Chieti mutui salati ex banca Marche condannata per usura il tribunale tasso soglia superato al momento della pattuizione dei prestiti la vittima è un costruttore chietino che ha riavuto indietro 92 mila euro e poi ancora Chieti statale piena di autovelox in un giorno controlli di tre comuni vigili scatenati sulla fondo valle mercoledì servizi incrociati di Guardia Grele San Marino e Rapino ecco poi i calendari di giugno i limiti di velocità da un minimo di 50 a un massimo di 90 chilometri orari in taglio medio Gasdotto a Chieti più soldi di Lanciano al capologo 600 mila euro per 1,2 chilometri di rete ai Frentani stessa somma ma per 12 chilometri avanti ancora siamo proprio a Lanciano paura o meglio la pagina di Lanciano ma il fatto di cronaca è avvenuto a Perano schianto sulla fondo valle grave 23enne la giovane di Palombaro era in auto con l'amica l'Apolo di un 19enne di Casoli le ha speronate per un colpo di sonno lo studente neopatentato è stato sottoposto dai carabinieri di Atessa ad esami tossicologici risultati tutti negativi feriti e ricoverati anche gli altri tre ragazzi e poi ancora diteci la verità sulla melma della centrale Lanci di nuovo senso civico da dicembre tutto tace sullo sversamento di liquami a Villa Pasquini a vasto commercio troppi venditori abusivi i vigili uniamo i controlli l'esercito degli irregolari è tornato con numeri imponenti sulle zone della riviera il comandante del Moro bisogna riportare la legalità e tutelare il consumatore siamo ora alle pagine di Teramo sempre la cronaca salto a vuoto il banco attresiste banda resta a secco i ladri entrano con un furgone nel centro commerciale Gran Sasso ma non riescono a scardinare la cassaforte la crisi del comune di Teramo basta trattative la crisi si risolve in aula Brucchi non terrà riunioni e domani andrà in consiglio con una proposta se non passa tutti a casa e poi universo 2 pronti piscina palestra e centro benessere a Silvi oggi parte la campagna abbonamenti della struttura che si propone di attirare clienti da Roseto a Pescare poi in taglio medio il freccia bianca da ieri ferma a Giulianova ripristinato il collegamento ferroviario estivo ma delle agevolazioni per i turisti non c'è traccia sui siti e ora apriamo la pagina dello sport lo facciamo con l'ausilio delle prime pagine dei quotidiani principali nazionali poi vedremo le pagine dei quotidiani locali vedremo anche alcuni servizi vi preannuncio un servizio sulla festa per il trentennale del triplete del Pescara Pallanuoto con la cena di gala che si è avuta ieri si è svolta ieri alla piscina le naia e poi il servizio relativo al pareggio del Francavilla contro il Fabriano un campionato dunque di eccellenza Francavilla che manca dunque la promozione in serie D ma può sperare comunque nel ripescaggio allora siamo alla gazzetta dello sport l'apertura Juve che scicca accordo con la Samp valutazione a quota 25 il giovane cieco sa coprire più ruoli ora deve convincere Allegri poi ancora Hamilton Stile Senna precede Fettel e firma la 65esima Pol ma probabilmente qui c'è un errore perché evidentemente questa è la pagina è la pagina di ieri della gazzetta dello sport chiediamo scusa andiamo a recuperare ora la pagina corretta che avremo tra poco perché in effetti l'apertura è dedicata al mercato e al colpo delle ultime ore del Milan che si sta aggiudicando alle prestazioni del portoghese André Silva ma ci sono anche in una giornata ricca di eventi sportivi i verdetti di motociclismo Formula 1 e anche il Roland Garros ecco qui gol Milan André Silva altro colpo rosso nero preso il centravanti del porto a cordolampo con l'attaccante pupillo di CR7 oggi le visite mediche è costato 38 migliori finora già spesi 99 e poi 5 anni di contratto e poi ancora al centro l'Italia che batte Liechtenstein per 5 a 0 magnifico Lorenzo ma l'Italia resta seconda in signe show gol e tante giocate a Udine la Spagna vince in Macedonia bisogna batterla e poi sotto la testata rosso sì dovizioso che bis questa Ducati è da mondiale dopo il Mugello un capolavoro anche al GP di Catalogna ora è a meno 7 da Vignales Rossi ottavo attacca la Yamaha l'avevo detto e poi rosso no King Lewis Ferrari giù dal podio in Canada trionfa Hamilton Vettel incidente al via rimonta ed è quarto e rimane primo nella classifica generale a più 12 proprio su Hamilton e poi ancora di spalla la vicenda dei diritti tv parla il presidente del Torino Cairo tranquilli faremo più soldi e il canale Lega non è una utopia e poi ancora giovani rampanti l'Inter ha un futuro e scudetto primavera mondiale under 20 siamo terzi con la vittoria sull'Uruguay calci di rigore in basso Nadal 10 l'extraterrestre dal 2005 a oggi la storia del re del Roland Garros decimo trionfo a Parigi tornato forte grazie ai dubbi e alla paura queste le parole del vincitore del Roland Garros Rafa Nadal e ora veniamo alle pagine dei quotidiani locali circa lo sport e intanto vediamo qui l'apertura dell'inserto lunedì sport del centro Verratti Pesce voglio andare via il centrocampista pescarese chiede di essere ceduto c'è il Barcellona in pole position e poi in basso serie D il ritorno di Colavitto vastese pronti a una grande stagione eccellenza Francavilla solo pari sfuma in casa il sogno della serie D prima categoria il piano della lente festeggia il ritorno in promozione poi Proietti Pescara io a dieta per Zeman parla uno dei nuovi acquisti dei biancazzurri in effetti andiamo proprio a vedere le pagine dedicate al Pescara ecco qui il playmaker del Pescara dieta e sudore la ricetta di Proietti l'ex Bassano la preparazione di Zeman la vita e fatica e poi ancora per il mercato avanti tutta per il terzino Valietti che arriverebbe in presido dall'Inter e poi l'ex Oddo contattato dal Novara e poi ancora in basso leggiamo l'angolana punta lo scudetto allievi nerazzurri qualificati alla Final Six Bancoschi un giusto premio al duro lavoro e poi c'è l'intervista al pescarese Andrea Camplone che resta sulla panchina del Cesena Gans Vido e Capone ottimi colpi parla l'allenatore che oggi prolunga il contratto con il Cesena anch'io vorrei la punta della Juve mentre i milanisti l'avevo chiesto a gennaio Delfino in B non mi aspettavo un simile crollo l'anno prossimo la concorrenza sarà agguerrita con 9-10 squadre pronte a lottare per il vertice per il calcio a 5 Pescara decimato Massalas e Leggero migliorano mercoledì ad Ancona gara 4 contro la Luparense biglietti e autobus gratis per i tifosi Lega Pro Teramo tra oggi e domani la firma del DS Repetto per la panchina resta in pole position il nome del tecnico siciliano Asta il mercato comincia dalle cessioni per liberarsi dei contratti pionerosi per gli arrivi oltre a Davi si parla dei centrocampisti Agei e Girasole e poi per la serie di L'Aquila in settimana la cessione della società le parole del patron Chiodi stiamo valutando di vendere il 70% ma ci sono problemi da risolvere i nuovi proprietari intenzionati a confermare il tecnico Battistini Gianni e Aureli siamo al campionato di eccellenza playoff finale di ritorno il Francavilla beffato dice addio alla serie D davanti a oltre mille tifosi giallorossi pareggiano con il Fabriano Cerreto per 1-1 la squadra di Montani si illude con il vantaggio di Capitan Milizia ma viene raggiunta dai marchigiani promossi grazie allo 0-0 dell'andata e allora andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti su questo pareggio amaro per il Francavilla contro il Fabriano Cerreto e poi le dichiarazioni a caldo del tecnico Montani e del presidente De Vincentis il Fabriano Cerreto pareggia per 1-1 al Valle Anzuca di Francavilla in virtù dello 0-0 dell'andata conquista la promozione in serie D per la formazione giallorossa un risultato a dir poco bugiardo ma la speranza di poter lo stesso salire nel campionato nazionale di serie D attraverso i ripescaggi non sono bastati 90 minuti di dominio praticamente assoluto per superare il Fabriano bravo a sua volta a capitalizzare l'unica vera occasione creata Valle Anzuca con il vestito della festa sugli spalti un migliaio di spettatori fra cui 200 supporters marchigiani un pubblico che da queste parti non si vedeva da lustri la cronaca al primo minuto subito giallorossi intraprendenti con Miciche che impegna l'estremo ospite Rossi al terzo tocca a Galli far gridare gol i tifosi di casa con un tiro a fil di palo la squadra di Montani fa subito capire di voler fare la gara sapendo di non poter fare calcoli dopo lo 0-0 dell'andata al settimo però si vede per la prima volta il Fabriano Savelli crossa dalla sinistra per Tittarelli che di testa colpisce però centralmente senza creare problemi a spacca la squadra di casa sembra in palla e così al dodicesimo può esplodere la gioia giallorossa su angolo di Miciche Matteo Milizia in dubbio la vigilia per un problema fisico di testa fulmina all'angolino l'estremo Fabrianese gara in discesa ma tutt'altro che chiusa per il Francavilla la risposta del Fabriano è affidata a Bartoli che al quindicesimo su calcio di punizione non inquadra lo specchio della porta abruzzese gli ospiti avanzano il baricentro in avanti e si vedono prima al 26esimo con una punizione di Bartoli respinta con difficoltà da spacca e un minuto dopo con l'api che di testa mette a lato da buona posizione non sbaglia però la mezzora Tittarelli che di testa salta quasi indisturbato mettendo alle spalle dell'incolpevole portiere del Francavilla tutto da rifare così per la squadra adriatica che si ributta subito in avanti al 33esimo punizione di Dipenti ma con Rossi che va ad anticipare con i piedi Miciche in corner al 34esimo e Rodia dopo uno slalom a mettere sopra la traversa gli ultimi 10 minuti di gara vedono ancora il Francavilla in avanti con lo scatenato Miciche che mira l'angolino mandando la sfera di un soffio a lato l'attaccante Francavillese ci riprova al 42esimo ma la difesa marchigiana riesce a salvare nella ripresa si riparte dall'1-1 che regalerebbe la Serie D agli ospiti la squadra di Montani costretta a vincere inizia così con il piede premuto sull'acceleratore al nono sugli sviluppi di un angolo Borghetti all'occasione giusta ma il portiere ospite Rossi riesce a respingere il caldo non agevole il Francavilla che è costretto a fare la gara al 12esimo Miciche a sfiorare il 2-1 con la sfera che finisce ancora a lato la partita vede Giallorossi costantemente in avanti al 21esimo ancora lui Miciche si inventa una grande giocata ma Rossi dice ancora no si arriva così nella fase cruciale della gara ma soprattutto di un'intera stagione la formazione abruzzese ci prova in tutti i modi al 25esimo tocca di Pentima su punizione ma Rossi respinge un minuto dopo di Giovanni di testa a mettere fuori e un assedio Giallorosso con il Fabriano Cerreto che rischia per due volte al 33esimo sulle conclusioni prima di Galli e poi di Milizia il finale vede ancora gli assalti della squadra di Fabio Montani al 37esimo e la volta di Di Sabatino ma Rossi blocca a terra in due tempi l'assedio del Francavilla dura fino al 95esimo ma la porta marchigiana resta inviolata poi le lacrime giallorosse e la contestazione di una parte dei tifosi francavillesi nei confronti del presidente De Vincentis colpevole di aver esonerato durante la stagione regolare il tecnico Montani con la squadra in vetta per quanto riguarda le contestazioni non mi interessano lascio agli altri le conclusioni per quanto riguarda quegli applausi a me sono cose che ti fanno molto piacere perché viene riconosciuto un lavoro un lavoro viene riconosciuta anche la serietà della persona come ho detto a un tuo collega avrei voluto tantissimo regalare una gioia a tutto il popolo giallo-rosso alla città ai tifosi purtroppo non ci siamo riusciti abbiamo dato il massimo ma veramente più di questo non potevamo fare bisogna accettare il verdetto del campo serenamente c'è un po' di amarezza ma pazienza guarda purtroppo non è bello assolutamente ho cercato di rincuorare i ragazzi appena sono rientrato in questo momento purtroppo sto avendo bisogno io di qualcuno che mi rincuore perché mi sto rivedendo un po' tutta la partita 90 minuti posso dire che abbiamo giocato solo e esclusivamente noi a calcio facendo un bel calcio arrivando più volte in porta però purtroppo il gol vittoria non l'abbiamo fatto questo mi rammarica De Vincentis oggi è il presidente del frangarilla calcio e quindi mi sento di dire che ho cercato di fare tantissimo per questa società in tre anni e credo di aver portato dei grandissimi risultati perché senza dimenticare ci sono due finali playoff una regionale e una quella di oggi la finalissima nazionale dove da oggi in poi bisogna ripensare solo al ripiescaggio ma se non siamo primi siamo secondi e quindi il futuro del frangarilla calcio potrebbe essere tranquillamente in seglie di insomma si confida nel ripiescaggio a frangarilla andiamo ora sul messaggero Abruzzo per quanto riguarda il Pescara Coulibaly forse si chiude imminente un incontro a tre con Juventus e Atalanta per portare a termine la cessione del centrocampista al Pescara andrà il prestito con diritto di riscatto di Gans e quello per una stagione dei Nerazzurri Capone e Latte Latte avanti ancora con il successo e l'approdo in Serie A di un aquilano come Del Pinto un successo dedicato all'Aquila Lorenzo Del Pinto è stato uno dei protagonisti della storica promozione in A del Benevento una grande impresa che è un orgoglio anche per la mia città in basso Asta il Teramon ha voglia di riscatto con me per la Serie D Vastese e Colavitto ricominciano insieme il tecnico torna sulla panchina bianco-rossa quattro mesi dopo l'esonero l'anno scorso bastava poco per fare meglio faremo tesoro di quegli errori poi ancora San Nicolò sarà De Angelis il direttore sportivo punto di domanda e poi Avezzano ultimo sprint per il toto allenatore De Patre Paolucci e Marino i favoriti per succedere a Tortora Pineto non conferma l'attaccante Palumbo poi Francaville il sogno sfuma sul più bello come abbiamo visto ed ecco qui Pescara un revival per il primo scudetto all'enaia di La Festa per ricordare i 30 anni dal primo titolo italiano di un settebello che ha fatto la storia ecco una foto di gruppo merito di Pomiglio quante aneddoti su Gabriele tra superstizioni e partite a carte le parole di uno dei leader di quel gruppo come Marco D'Altrui noi invece andiamo ad ascoltare altri due splendidi protagonisti di quel settebello ovvero il Maradona della Palannuoto Manele Stiarte e poi un pescarese doc come Amedeo Pomiglio è stato un triplete un triplete significa che oggi molte squadre se lo possono sognare in tutti gli sport no no non facciamo paragoni viviamo quello che ricordiamo sentiamo dentro ai cuori quello che abbiamo vissuto è stato un tempo fa e certo per molti sarà anche poco per noi quello che abbiamo vissuto è qualcosa che avremo dentro per sempre per come è stato fatto per come ci siamo riusciti per il gruppo che era abbiamo vinto tutto come lo abbiamo vinto dai una bella cosa che ci porteremo per sempre se ti dico Gabriele Pomiglio a parte Luciconi cosa ti viene in mente? Gabriele non permetterebbe Luciconi Gabriele si vede che qualcuno si mette sulla sulla tristezza ci manderebbe a quel paese Gabriele vorrebbe questo vorrebbe tutti insieme vorrebbe allegria vorrebbe che compartissimo buon momento Gabriele è stato dai cioè tutti quelli che abbiamo giocato a Palannuoto Pescara di fuori di Pescara è perché ci ha chiamato lui tutti quelli che hanno giocato a Palannuoto di Pescara o intorno a Pescara è perché Gabriele li ha convinti o ha creato qua qualcosa di straordinario nella piscina allenaglia e per questo Gabriele è l'anima della Palannuoto avete creato l'irripetibile o si può ripetere sulla carta un fenomeno così? tutto si può fare ma il vanto o l'orgoglio è che noi ci siamo riusciti è che ce lo porteremo ripeto te l'ho detto già Paolo lo riporteremo questa attenzione per sempre mi auguro mi auguro che Pescara sportivamente possa tornare a vivere quelle sensazioni di quegli anni perché non era la Palannuoto era il calcio era la Palacanestro era il rugby era il palacanestro anche femminile era un insieme di fattori che faceva che Pescara fosse una città felice che è allegra entusiasta e sportiva che adesso è un po' più carente però me lo auguro mi auguro che si possa ripetere e ne sarei fiero Amedeo Pomiglio che emozione è innanzitutto rivedere tanti compagni di squadra di quel periodo tutti insieme in una serata memorabile quella che stava sognando anche tuo padre Gabriele prima di andarsene è un'emozione fortissima anche perché tutti quanti hanno l'emozione la stessa quindi condividerla è veramente magico è una serata magica stasera è fatta di storia è fatta di di ricordi è fatta di di una diciamo di un'impresa che è rimasta unica nella nella storia dello sport pescarese anche nella palla a nuoto per come è cominciata perché come ho detto prima è cominciata un po' dal nulla e ci è voluta un po' la capacità di tutti per poterla per poter raggiungere quello che abbiamo raggiunto quindi è un gran momento ce lo godiamo appieno con questo servizio in pratica chiudiamo questa edizione di Mattino 6 ricordandovi come abbiamo fatto in apertura che per quanto riguarda le elezioni si va al ballottaggio all'Aquila tra Di Benedetto e Biondi si va al ballottaggio anche ad Avezzano tra Di Pangrazio e De Angelis si sta profilando anche il ballottaggio a Martinsicuro con Vagnoni che è comunque in netto vantaggio al primo turno sul sindaco uscente Camaioni situazione piuttosto incerta al comune di Ortona dove insomma al momento dovrebbe esserci un ballottaggio ma aspettiamo i dati definitivi tra Leo Castiglione e il candidato Giorgio Marcheggiano mentre invece la situazione è definita nei comuni di San Salvo e Spoltore con le chiare affermazioni dei sindaci uscenti Tiziana Magnacca a San Salvo e Luciano Di Lorito a Spoltore ulteriori aggiornamenti nel corso delle edizioni del TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio Maurizio da qui in regia e ringrazio voi per averci seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.